Noi andiamo avanti con il sindaco di Abriola proprio per parlare di questo fantastico appuntamento di San Valentino, appuntamento come dicevamo per l'intera comunità per celebrare il loro santo prato e che come di consueto accoglie numerosi turisti. Noi parliamo del cartellone 20-2024 proprio con il primo cittadino Romano Triunfo che vedo in collegamento. Buongiorno sindaco, grazie per essere con noi. Buongiorno, buongiorno. Allora cosa avete preparato per questa edizione? Beh, grandi festeggiamenti, iniziamo con la giornata di oggi perché anticipiamo di un giorno le manifestazioni, soprattutto quelle di natura religiosa in quanto domani il 14 sono le cenere e quindi inizia la liturgia e quindi la quaresima. A questo punto iniziamo con le manifestazioni oggi, alle 10.30 stamattina il corteo per andare in chiesa con la manifestazione religiosa, quindi la messa alla termine della celebrazione religiosa, quindi della messa a mezzogiorno ci sarà la processione per le vie del paese e quindi il santo girerà a Nerioni. Poi nel pomeriggio alle 16.30 l'accensione delle luminari a tema e alle 17.30 la messa, la santa messa, la messa solenne celebrata da Sua Eccellenza Monsignor Ligorio che celebrerà questa messa e quindi al termine della manifestazione religiosa ci saranno poi la messa soltanto che ci sarà l'omaggio alle coppie che compiono il 25esimo anno di anniversario di matrimonio, il 50esimo, qualche coppia che compie il 60esimo e le giovane coppie. E a termine della cerimonia poi religiosa ci recheremo presso il parcheggio multipiale di Via La Cava per aprire lo stand, il Mini Expo, un convivio letterario che abbiamo strutturato quest'anno per la giornata di oggi per degustare piatti tipici della tradizione popolare, piatti tipici della tradizione di San Valentino, quindi preparati dall'Associazione Cuochi Potentini, quindi una novità anche di quest'anno. E con la presentazione di un libro del collega sindaco, il collega Salvatore Cosma, ci sarà tanta musica, allegria, poi la serata continuerà con la musica e festa per le vie del paese con i fuoghi pirotecici a termine della manifestazione, il blindisi di mezzanotte, giocolieri, trambolieri, artisti di strada e poi arriviamo alla giornata di domani, domani è 14 San Valentino, non ci sono le manifestazioni di natura religiosa, ma ci sono le manifestazioni di natura civile, quindi abbiamo coniugato il sacro e profano, quindi oggi quelle religiose e domani quelle civile, però le manifestazioni sono partite, diciamo il cartellone degli aventi di San Valentino 2024, sono partiti l'8 di febbraio e termineranno il 18 di febbraio. Il 14 quindi ci saranno l'accensione dell'illuminare sempre a tema, nel pomeriggio alle 16 e 30, la messa delle generi, che è la quaresima, l'inizio del periodo liturgico, quindi la quaresima e alle 19 l'accensione dei falò, dei fucanoi, perché il nostro San Valentino che il popolo di Abriolo nutre tanta fede nei confronti del nostro santo, la leggenda racconta che nel 1600 il periodo di carestia fece il miracolo del grano di Abriolo e quindi da secoli, il popolo di Abriolo che nutre profonda fede, festeggiamo e onoriamo il nostro santo patrono, coniugando un po' quelle che sono, coniugando il sacro e il profano, quindi coniugando la parte religiosa con quella civile e si mette in campo una serie di attività che per Abriolo è diventato il bigliettino da visita, è un San Valentino poi tutto l'anno, quindi il 14 sarà un percorso con l'accensione come dicevo dei fucanoi, che è la festa dei fucanoi e quindi per ogni quartiere accendono il falò e a fianco al falò c'è un percorso enogastronomico, quindi con musica e prodotti del nostro territorio, quindi abbiamo creato questo bigliettino da visita per un evento di natura turistica, diciamo il nostro bigliettino perché poi Abriola è un paese a valenza turistica, perché non è che solo il piccolo borgo con tutte le risorse culturali, religiose, artistiche, ma abbiamo anche un comprensorio sciistico, comprensorio turistico della sellata Pierfaone, dove esistono anche gli impianti sciistici, dove c'è un comprensorio ricco di un ambiente naturale, dove c'è la senteristica, si possono tenere passeggiati, si possono assaporare e respirare aria pura, dove ci sono percorsi guidati, le nostre strutture turistiche con i prodotti, con piatti tipici del territorio, come dicevo prima, quindi diciamo un bigliettino da vista per chi viene ad Abriola, un San Valentino tutto l'anno per rilassarsi e per degustare quelle che sono le bellezze, le privatezze del nostro territorio. Questo è un po' quello che mettiamo in campo in onore del Santo Patrono, ma mettiamo in campo tutto l'anno. Sindaco, quindi tradizione, religione, sapori, amori, ma soprattutto partecipazione, queste un po' sono le parole chiave di questo appuntamento particolarmente sentito dalla comunità, ma che accoglie, come dicevamo, anche numerosi turisti. C'è una partecipazione, un fermento popolare, perché al cartellone degli eventi hanno partecipato, noi che mettiamo in campo come amministrazione, ma tutte le associazioni del territorio, quindi le associazioni del territorio che partecipano, la Proloco, l'associazione culturale, quelle sportive, la parrocchia, l'azione cattolica, mettiamo in campo, quindi tutti partecipano all'evento e creiamo questa accoglienza. Grande accoglienza, tanta partecipazione, i numeri sono alti, speriamo che quest'anno superiamo anche i numeri dell'anno precedente e quindi con l'impegno, proprio un'accoglienza turistica per quello che poi rispetta la peculiarità del nostro territorio. Va bene Sindaco, grazie per la sua disponibilità, noi vi facciamo il nostro personale in bocca al e sicuramente seguiremo i vostri appuntamenti. Grazie, vi aspettiamo numerosi.